Allora, eccoci qua. L'invecchiamento attivo invece è un altro aspetto importante, perché per fortuna c'è... No, nel senso che il fatto dell'invecchiamento deve essere affrontato per tutti i suoi aspetti, quindi gli aspetti della non autosufficienza, della fragilità, delle patologie, ma anche del mantenere il più possibile le persone in salute. E anche la prevenzione. Certo, quindi la prevenzione che si deve fare fin da quando si nasce, da dopo che si nasce, perché la prevenzione è un processo continuo per contrastare malattie, insorgenze di malattie e quant'altro. Ma anche l'aspetto prevenzione anche nel senso che quando una persona è fragile, anziana, eccetera, tenersi sotto controllo, oppure le cure continuate, perché poi magari molti si curano, curano l'acuzie, poi termina la fase acuta, non si curano più, quindi dopo precipita nel senso e c'è... Anche questo è una cultura praticamente della prevenzione che... Ma adesso sappiamo che molti non si curano più, no? Perché non ci sono più, perché costano, perché i ticket, perché le liste d'attesa non sono rispettate, quindi sono costretto ad andare nel privato e pagare di tasca mia e quindi non gli ho i soldi e quindi non ci vado, no? E questo, dopo, le conseguenze le paga la persona, certamente stessa, ma le paga la società. Perché una persona malata, una persona non autosufficiente, è un costo comunque per la collettività, no? E allora, però sappiamo anche che ci sono tutta una serie di opportunità invece per le persone anziane che stanno bene in salute, che servono a mantenerle, a mantenere questa salute e questo benessere che è anche essere una risorsa, essere considerato una risorsa per l'intera comunità, per la comunità in cui vivi. sentirsi utili, perché tante volte, no? Col pensionamento, anche se sei molto in là ormai, per molte persone che non hanno interessi, che non hanno hobby, soprattutto, diciamo, anche le persone più umili da questo punto di vista, no? Con meno strumenti culturali, eccetera, il momento del distacco dal mondo lavorativo può comportare una depressione, un sentirsi inutile, un peso. E allora, davvero, ogni giorno, insomma, quasi ogni giorno, sentiamo di nuove leggi regionali che vengono emanate rispetto proprio all'invecchiamento attivo, quindi a trovare... C'è una legge comunque regionale? Sì, a livello regionale c'è, è stata fatta l'anno scorso, è stata emanata l'anno scorso, ed è nata proprio con il contributo sia delle organizzazioni sindacali dei pensionati che delle associazioni di volontariato, quindi una legge molto partecipata, è che adesso continua il suo iter perché bisogna che venga approvato un piano triennale di programmazione rispetto a cosa mettere in campo. E questo lo si fa con la Regione e con i comuni, con le ULS, con il volontariato e con le organizzazioni sindacali dei pensionati. Perché comunque le persone anziane, se stanno bene, possono veramente, realmente dare una mano. Già lo fanno nell'ambito familiare, no? Rispetto alla crisi, l'abbiamo visto molto chiaramente, quanto il reddito da pensione è servito in qualche modo a non far emergere tutta la drammaticità di quello che c'è successo negli ultimi dieci anni. Però può essere anche una risorsa per la comunità in cui vive, per la città in cui l'anziano c'è, in cui risiede, per il paese. Certamente, prima c'era un messaggio di una ma, ci vogliono far lavorare, no? Non è una questione, in maniera volontaria, non è una questione di lavoro. Non si può, non vogliamo, e proprio non vogliamo proprio sentire, che continuare ad essere utili per la società significa portare via lavoro a qualcuno. niente di tutto questo, non c'è niente di sostitutivo del lavoro che deve essere invece fatto da lavoratori e lavoratrici con un reddito, con un contratto di lavoro e quant'altro. Ma è rendersi attivo per tutta una serie di attività, di supporto, che aiutano, che favoriscono, che vanno una mano. Che però non con tempo ti possono, che servono, che possono... Sì, fare i nonni vigile, non lo posso considerare un lavoro con contratto, eccetera. E però è utile, è utile per i genitori che lavorano e che non hanno il tempo di andare a prendere i bambini a scuola, fare attraversare la strada ai bambini. Certo. Fare il doposcuola, per esempio, gratuito per bambini che non hanno i genitori, che li possono seguire da parte di persone anziane. E' utile, no? E' un po' quello che fanno i nonni, appunto, a livello familiare, lo facciamo un po' più allargato. Quindi volontariato. E' certo che volontariato. Ecco, parlava di un altro messaggio che è arrivato prima, stavo leggendolo, se vogliamo rimetterlo un attimo in onda, così la leggiamo anche a voce alta per i nostri ospiti, vediamo se la regia lo rimette in onda, sostanzialmente anche di una cultura che va diffusa, una cultura della qualità della vita, che parte anche dall'alimentazione, che parte dalle scuole, che parte dai più giovani. Perché effettivamente se tu conduci una vita smodata, ecco qui, la prevenzione parte dalla famiglia e prosegue nella scuola. Certo. Ci dovrebbe essere degli obblighi per la tenuta fisica come un'adeguata e continua attività fisica, ma questo non avviene, anzi siamo bombardati di pubblicità alimentare pazzesca, ricca di grassi, Federico da Padova. Cioè anche questo, proprio la stessa alimentazione, il movimento, tante volte no, abbiamo detto, bisogna camminare, bisogna muoversi, eccetera. Invece se dalla scuola, dai più piccoli, dalla famiglia, non parte una cultura di aver cura di sé, poi a 2064, chi è pseudo giovane poi sarà, no? Eh sì. Quello che dicevamo prima, ripeto, poi non è che stiamo bene ognuno facendo più attività fisica, mangiando più verdura, non fumando, non abusando dell'alcol, non è che stiamo bene solo noi, sta bene anche la società, perché come diceva Rosanna, poi... È un costo sociale. È un costo sociale, ed è dimostrato, insomma, chiunque... Scientificamente. Frequenti un po' la sanità, ti fanno vedere una piramide dove ti dicono, guarda, il costo maggiore per la sanità sono le cronicità, quando però riguarda magari una percentuale di popolazione inferiore rispetto alla totalità. Quindi c'è un costo che poi va ributtato nella totalità delle persone. Volevo solo fare una battuta sul lavoro di cura. Sul lavoro di cura, una delle cose che diciamo in questo documento che abbiamo presentato ai partiti politici è che il lavoro di cura deve essere in qualche maniera preso in considerazione fondamentalmente sotto due aspetti. Il primo sotto l'aspetto economico. Vuol dire pagare le persone che aiutano il proprio caro a casa? No, però si può, in qualche maniera, si possono aumentare le agevolazioni fiscali, quindi dando un segnale di attenzione rispetto a chi si fa carico di questo tema, diminuendo le tasse, come si fa per tante altre cose. Per dare un aiuto per conti messi. Come per esempio, e questo riguarda in particolare le donne e non solo, prevedere dei benefici sotto l'aspetto previdenziale, se è mai possibile che se uno si prende cura per un anno, due anni, tre anni, di una persona anziana o una persona che ha disabilità, non gli venga riconosciuta questa attività magari non pagata, perché poi è un parente sotto l'aspetto pensionistico. Questa cosa probabilmente, anzi sicuramente, noi diciamo, deve essere presa in considerazione. Ma voi avete fatto delle azioni in questo senso? Vi siete mossi, avete sollecitato anche provvedimenti da questo punto di vista? Sì, noi abbiamo presentato questo documento, come ho detto, alle forze politiche. Recentemente abbiamo rinviato ai parlamentari veneti, SPFNP, WIRP del Veneto, hanno mandato questo documento. Quindi a livello unitario praticamente. Unitario. È stato mandato questo documento ai parlamentari veneti, dicendogli, guardate, questo non è un problema solamente nazionale, è un problema anche veneto, è utile insomma, che ci rimbocchiamo tutte le maniche per tentare di dare una soluzione. Dal punto di vista delle prospettive, cosa si è apparese? La prospettiva significa che tutti quanti, io non dico solo la politica, solo i parlamentari, solo i consiglieri regionali, tutti quanti si devono rendere conto che più tardi facciamo i conti con l'invecchiamento della popolazione, peggio è. Perché si rischia, non si rischia, già oggi è, che chi sta peggio starà ancora peggio, ancora di più. Dopo staranno avere proprio piega sociale. E quindi, o ci si mette, direi, intorno a un tavolo, istituzioni, politica, rappresentanze sociali come la nostra, e questa diventa una priorità, una priorità che però ha bisogno, come dire, di una, di un'idea, di un percorso, che debba essere unitario, di una regia, ma deve essere costruita una regia rispetto a questo tema, perché se no si corre il rischio di moltiplicare gli interventi e di non risolverlo a monte. Che non è cosa di poco conto. Per quel che riguarda invece il discorso dell'invecchiamento attivo, quindi cos'altro mancherebbe? Sì, no, nel senso che adesso, dicevo, a livello regionale, si sta facendo questo programma, che poi mette a sistema un po' tutto quello che i comuni, già magari, più chi meno, sta facendo, ma bisogna, come diceva bene Gino, bisogna coordinare le attività, perché se no si rischia che un comune più fortunato, perché ha più risorse, mette in atto azioni positive, eccetera, un comune che ne ha meno, deve fare, deve scegliere quali sono le priorità e magari quel comune le priorità sono le strade, le buche o le tombe o il cimitero o altre cose. Se invece c'è appunto questa regia regionale e comunque è anche finanziata questa legge, per cui la regione stessa mette delle risorse e ne ha messo 800 mila euro come prima battuta, insomma, è già qualcosa, per cui veramente puoi cercare di uniformare, di trovare la strada, perché dappertutto, in ogni comune, in ogni US, ci siano delle attività che coinvolgano gli anziani proprio in questi lavori, in queste azioni di volontariato. Perfetto. Allora, il tempo a disposizione è ormai giunto al termine, io vi ringrazio del vostro intervento, come sempre, se voi ci scrivete, poi noi giriamo le email, se sono delle domande specifiche, se ci lasciate poi l'autorizzazione a farlo, ai responsabili del SPCGL, presenti su tutto il territorio, altrimenti iscriveteci e vi daremo risposta con i nostri ospiti in studio e nelle prossime puntate. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.